Nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Tanto, il Signore sia per voi. Nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Tanto, il Signore sia per voi. Nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Tanto, il Signore sia per voi. Nel nome del Padre e del Figlio e del Figlio e del Signore sia per voi. per dedicarsi all'intervento e a te e da un segnale di vita per ieri concedi anche a noi per dedicarsi all'intervento e per il nostro Signore e il nostro Dio e di Dio per vivere il canto e nell'unità e lo sfidiamo per il segno di te e i secoli Dall'improvviso Atevori su di ci e faizze una persona per un uomo che amato con me con la moglie e per ieri 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 Poi venire da lui, marito di lui e di lui, ed essa rimase con i suoi figli, questi spostavano donne e donne, una si chiamava a corpo e l'altra a morte. Abitavano in quel corpo per dieci anni, oltre il libro, anche amico e figli di lui, e la donna rimase senza i suoi figli e senza i suoi figli. Allora non ho preso il cammino di ritorno dei cani di mamma, con il suo figlio, perché il cani di mamma aveva sentito il libro, e il Signore aveva visitato il suo corpo, dando le mamma. Orpa, siamo ritorno con un marcio della sua sua gente, tutti invece non si sancò da lì. Doevo gli disse, ecco, tua comanda è tornata dalla sua gente, e dal suo figlio, torno in Dio, amico, come dobbiamo. Una luce di mio figlio, non insistere con me, che ti avvalido il tuo minuto senza te, perché il tuo minuto ha il mio figlio, e il tuo minuto ha il mio figlio, e il tuo minuto sarà il mio figlio. Così comunque tornò al mio figlio, tanto abitando la sua vita, e il tuo minuto ha il mio figlio, e il tuo minuto ha il mio figlio, e il tuo minuto ha il mio figlio, e il tuo minuto ha il mio figlio. E il tuo minuto ha il mio figlio, e il tuo minuto ha il mio figlio, e il tuo minuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Secondo voi, il signo è il grande e primo comandamento. Da questi due comandamenti riprendono tutta la legge e il doffetto. Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.